gentili telespettatori buona giornata ciciliano membro del comitato tecnico scientifico dice ma i novax noi li vogliamo tutelare li vogliamo aiutare perché rischiano sanzioni e malattia e così le multe dice sono salate solo i pensionati non rischiano la stangata beh le multe salate è relativo 100 euro per una persona che guadagna bene se li può assolutamente permettere dire 100 euro li pago e così non mi rompono più le scatole per chi guadagna chi ha una pensione da 400 500 euro al mese o reddito di cittadinanza 100 euro di multa sono tantissime quindi che le multe siano salate e relativo dipende da chi le riceve ma lui ciciliano dice sono salate chi non si adegua alle regole mette a rischio la sua vita professionale dovrà scegliere quale strada imboccare e il vaccino è una scelta di ragionevolezza e civiltà e sprona i ritardatari a mettersi in riga fabio ciciliano uno dei veterani del comitato tecnico scientifico dice la normativa in vigore prevede in realtà una sanzione una tantum di 100 euro per chi decide di non sottoporsi alla vaccinazione che risulta modesta solo per i pensionati e per i soggetti over 50 non occupati a questa sanzione per i lavoratori senza green pass rafforzato si aggiunge anche una multa da 600 a 1500 euro che in chiaso di violazione riterata viene raddoppiata cioè per chi va a lavorare lo stesso però questa cosa non ha senso il governo è da settimane che cerca di giustificarsi ah ma 100 euro ma no non è vero che solo 100 euro perché ci sono da 600 a 1500 se ti becco a lavorare senza green pass quindi non è vero che la multa è solo 100 euro invece sì la multa è 100 euro il il non vaccinato non può lavorare con la legge attuale che per chi ha più di 50 anni quindi cosa vuol dire la multa non è solo 100 euro perché se ti becco a lavorare il ti becco a lavorare in altra cosa quella è un'altra cosa la multa è 100 euro per chi non si vaccina e non può andare a lavorare se ha più di 50 anni quello che ne consegue per chi non si vaccina non vuole andare a lavorare non c'entra niente con la multa da 100 euro la multa è una cosa e le conseguenze di chi non può lavorare senza il vaccino è un'altra cosa non si può dire ah ma mica è solo 100 euro è c'è da aggiungerci 600 1500 il governo cerca di giustificarsi del perché molti hanno criticato che 100 euro erano pochi bene dice ciciliano a loro si chiede solo di difendersi dal virus non mi sembra un grande sacrificio numeri alla mano i provvedimenti per i novax hanno portato un aumento di vaccinazioni tali da poterli considerare una popolazione marginale e non pericolosa per il resto della comunità gli ultimi provvedimenti di sanità pubblica adottati vanno proprio nella direzione della tutela dei soggetti non vaccinati poiché sono proprio i cittadini privi di ogni protezione ad essere maggiormente esposti al pericolo di finire in terapia intensiva e poi a complicazioni l'ISS istituto superiore di sanità dice che il rischio grave dei non vaccinati è 23 volte superiori a quello delle persone che hanno fatto la terza dose cioè il richiamo beh il green pass dice è e rimane uno strumento tecnico di emergenza che ha consentito al paese di restare aperto anche nelle fasi più critiche beh caro ciciliano diverse ricerche hanno dimostrato che le restrizioni adottate in alcuni paesi non sono servite praticamente a nulla il green pass tu non ti siedi al bar tu non vai di qui tu non fai questo hanno messo a confronto paesi con restrizioni paesi con poche restrizioni e paesi con nessuna restrizione in questi tre casi il risultato è stato esattamente identico il virus ha circolato nello stesso identico modo però nei paesi con le restrizioni i contagi sono diminuiti dello 0,2 per cento e dicono è nullo l'effetto delle restrizioni è nullo ma i danni economici sono ingentissimi e questo caro ciciliano non continuiamo a girarci intorno e dire che il green pass ha salvato il paese perché non è vero non è vero lui dice beh green pass e con questo stiamo osservando una solide costante riduzione della curva dei contagi e come vi dicevo prima la riduzione della curva dei contagi c'è in quasi tutta europa paesi con green pass e paesi che non l'hanno mai avuto quindi la riduzione dei contagi non è dovuta al green pass è dovuta al virus che dopo due anni lentamente se ne sta andando come era successo per la viaria non per la viaria per la spagnola di cento anni fa dopo due anni piano piano se ne è andata e non c'era nessun green pass quindi smettiamola con questo green pass che ferma i contagi perché è una bugia bella che buona lui dice sì non è un caso che altri paesi ci siano venuti dietro introducendolo all'italiana il green pass continua ad avere attualmente piena funzionalità operativa stanno ormai diventando sempre più numerose e prevalenti le certificazioni senza scadenza che non limitano in alcun modo la vita sociale dei cittadini muniti di terza dose si sta cercando un sol conetto fra chi può fare tutto e chi ha deciso di autolimitarsi quindi chi non si è vaccinato secondo ciciliano ha deciso di autolimitarsi perché se tu non ti vaccini stai decidendo di farti mettere le restrizioni ma se il vaccino non è obbligatorio fino a 49 anni perché uno deve avere delle restrizioni se non è obbligatorio ehi ma nessuno mi dà una risposta a questo è c'è il silenzio assordante se non è obbligatorio il vaccino fino a 49 anni perché ci sono le restrizioni per le persone che hanno deciso di non vaccinarsi se non è obbligatorio il vaccino non c'è nessuna risposta vero e beh insomma bisogna anche riflettere su questo significa che il green pass non va bene perché se limita la libertà di persone che hanno l'opzione di vaccinarsi o no e capite che non ha senso forse aveva più logica se io metto l'obbligo dai 50 anni in su chi non si vaccina allora gli metto il green pass dai 50 anni in su ma se fino a 49 anni e 11 mesi e 30 giorni non c'è l'obbligo non posso mettere il green pass insomma questo è quello che penso io che non conta nulla ovviamente arrivederci a tutti e grazie